Allora noi ci chiamiamo Obelandi, siamo un gruppo dell'Alta Valle Scrivia, siamo qua al Festival del Lago delle Lame per la prima volta, noi suoniamo musica irlandese tradizionale, siamo felicissimi anche se oggi il tempo non è dei migliori, è una bellissima esperienza e la consigliamo a tutti i musicisti che vogliono partecipare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.